Il Papa ha lanciato un nuovo appello alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato, che si celebra giovedì 20 giugno e che è promossa dalle Nazioni Unite con l'obiettivo di riconoscere la forza, il coraggio e la perseveranza di milioni di persone costrette a fuggire a causa di guerre, violenza e persecuzioni. Siamo tutti chiamati ad accogliere, promuovere, accompagnare ed integrare quanti bussano alle nostre porte, lo ha detto Francesco nel corso dei saluti ai fedeli di lingua italiana, al termine dell'udienza generale. Prego affinché gli stati si adoperino ad assicurare ai rifugiati condizioni umane e a facilitare i processi di integrazione. Il tema delle migrazioni è drammaticamente intrecciata a quello della guerra, così come ogni mercoledì il Santo Padre ha esortato i fedeli di tutto il mondo a non stancarsi di pregare per la pace e per le popolazioni lacerate dai conflitti. «Continuiamo a pregare per la pace, la guerra è sempre una sconfitta dall'inizio, preghiamo per la pace nella martoriata ucraina, in Terra Santa, in Sudan, Myanmar e dovunque si soffre per la guerra. Preghiamo tutti i giorni per la pace». Il Pontefice ha anche ricordato l'esempio di Don Michael Rapac, il giovane sacerdote polacco martire del comunismo, beatificato a Cracovia lo scorso 15 giugno, la cui testimonianza è segno di consolazione da parte di Dio in questi tempi segnati dalle guerre. «Il suo esempio ci insegna ad essere fedeli a Dio, a rispondere al male con il bene, a contribuire nell'edificazione di un mondo fraterno e pacifico». «Io sulla mia scrivania ho un'edizione in Ucraino di questo Nuovo Testamento dei Salmi di un soldato morto in guerra, che ne l'hanno inviato, e lui pregava nel fronte con questo libro». Il Papa ha raccontato questo aneddoto personale nel corso dell'udienza generale di mercoledì 19 giugno, durante la quale ha proseguito il ciclo di catechesi dedicato allo Spirito Santo. La riflessione di Francesco è stata incentrata sui salmi, che lui stesso ha definito sinfonia di preghiera nella Bibbia. «Come in ogni sinfonia vi sono in esso vari movimenti, cioè vari generi di preghiera, l'odio, ringraziamento, supplica, lamento, narrazione, riflessione sapienziale e altri, sia nella forma personale sia in quella corale di tutto il popolo. «I salmi sono preghiere per tutte le stagioni, non c'è stato di animo, di sogno, che non trovi in essi le parole migliori per trasformarli in preghiera». L'invito del Pontefice è quindi quello di diventare noi stessi autori dei salmi, facendoli nostri e pregando con essi. «Se ci sono dei salmi o solo dei versetti che ci parlano al cuore, è meglio ripetersi e pregarli durante il giorno. Prendete l'abitudine di pregare con i salmi. Io vi assicuro saresti felici alla fine». Grazie. Grazie. Grazie.